Perché siamo delusi noi in primis e sappiamo di aver deluso tutto il pubblico che ci segue, tutti i tifosi. Quindi è stata una bella batosta, ma subito dopo, digerito dopo la cena, ci siamo detti tra di noi che ce la possiamo fare, che ci crediamo, che sappiamo di aver fatto veramente tutto il possibile per perdere di nove. Ne abbiamo viste nello sport imprese di questo tipo qua, ci siamo complicati molto il cammino, questo è sicuro, però io ci credo e spero che il pubblico ci dia quella spinta in più che ha dato anche a loro, ma soprattutto tra di noi, tra noi 19 che siamo qua, dobbiamo crederci, ne sono certo, ne ho parlato con molti ragazzi, ma tutti quanti ci crediamo e andiamo verso l'unico obiettivo.